Urca bene urca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo ragazzoli nella fase 3 e vi mostrerò dove trovare la lettera M a sprofondo o stantio Quindi cerca la lettera M a sprofondo o stantio Ragazzoli questa missione è abbastanza semplice Si troverà esattamente sotto questo container Sotto esattamente di me quindi in questo container qua Quindi qui dove c'è questo pompa verde ragazzoli si troverà appunto Non sono riuscito a trovare Ok E qui ragazzoli si troverà la lettera M Sono riuscito ad ammazzare l'ho fatto un 170 E qui ragazzoli si troverà la lettera M di sprofondo o stantio E quindi ragazzoli clicchiamo E ed ecco qua cerca la lettera M a sprofondo o stantio Quindi ragazzoli spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo a brevissimo con la fase 4 Ciao 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 Ciao